I cimiteri di Isernia, quello centrale e quello di Castel Romano, sono rimasti chiusi sabato e resteranno chiusi anche il primo maggio, nonostante le richieste delle minoranze. Erano stati i consiglieri comunali Giovan Carmine Mancini, Raimondo Fabrizio e Gianni Fantozzi, durante la riunione capigruppo in videoconferenza, a chiedere al sindaco D'Apollonio di aprirli per dar modo ai familiari dei defunti di poter andare a trovare i propri cari. Ma la loro richiesta non è passata. I consiglieri avevano presentato l'istanza di apertura dei cimiteri comunali in assoluto rispetto delle misure previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ma l'assessore a ramo, Linda Dall'Olio, richiamando le norme ricircolari, ha ricordato che anche andare al cimitero comporta l'infrazione al divieto imposto dal governo di uscire di casa fino al 3 maggio. Quindi, per motivi di sicurezza e per evitare contagi, i due cimiteri di Sernia sono rimasti chiusi sabato e resteranno chiusi anche il 1 maggio. Stessa cosa anche per gli esercizi commerciali alimentari, doppia chiusura sabato e il 1 maggio. La paura del contagio è ancora troppo forte. Ma la chiusura dei negozi alimentari, afferma il sindaco da Pollonio, serve anche a garantire ai lavoratori di questo settore un più che meritato riposo dopo il lavoro immane al quale sono stati sottoposti, soprattutto in questo particolare triste periodo. La decisione di chiudere tutto del sindaco, oltre che rispondere a ragioni legate all'importanza che rivestono le feste della liberazione del lavoro per tutti gli italiani, è stata essenzialmente finalizzata a scongiurare assembramenti da parte di coloro che tendono a accogliere qualsivoglia occasione per uscire di casa, specie quando ci sono le ricorrenze festive.